Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo video sul vaccino RNA per il coronavirus. In questo video provo a rispondere ad alcune domande che ho letto in rete o che mi sono state fatte personalmente. Ricordo che parto dal mio punto di vista di biotecnologo farmaceutico, cioè di persona laureata in questo settore di fatto, e andrò a citare alcuni articoli scientifici che ho utilizzato per costruire le risposte a questi dubbi. Partiamo dalla prima domanda. E' vero che il vaccino è stato fatto in così poco tempo che non c'è da fidarsi? Beh allora è vero che il vaccino è stato fatto in un tempo più breve di quello che di solito viene richiesto per la costruzione, la sperimentazione e la messa in commercio di un farmaco o di un generale di un vaccino. Normalmente ci sono così tante fasi, lo studio di base che richiede anche fino a 10 anni per fare ricerca, capire qual è il bersaglio contro il quale indirizzare la molecola, eccetera la fase preclinica che richiede uno studio nelle cellule in laboratorio e in seguito negli animali una fase clinica sulle persone divisa in tre sottofasi la verifica da parte delle entità internazionali e nazionali e infine la messa in commercio e il continuo monitoraggio. Ora di tutte queste fasi, il vaccino per il coronavirus a RNA ne ha potute alcune saltarle e altre abbreviarle. Vediamo perché. Intanto molti gruppi di ricerca in tutto il mondo hanno collaborato, hanno sequenziato il virus in pochissimo tempo, le sequenze del virus sono pubbliche online, sono state date a tutti i ricercatori e in conseguenza in un mese, due mesi dal primo caso di fatto era già possibile identificare qual era il bersaglio delle terapie immunologiche, quindi in particolare la proteina Spike del coronavirus. Sono stati dati moltissimi finanziamenti sia da nazioni, stati che da enti privati. Le case farmaceutiche hanno accorpato le prime due fasi di sperimentazione, fase 1 e fase 2 ma non la fase 3 che è quella che richiede il maggior approfondimento e il maggior numero di soggetti coinvolti. Inoltre l'autorizzazione che viene data è tecnicamente un'autorizzazione di emergenza. Questo non significa che venga data ad esempio dall'EMA o dall'AIFA andando a soprassedere su alcune cose anzi vengono comunque osservati gli studi fatti, i trial clinici e vengono approfonditi i risultati. Dai trial clinici come abbiamo visto anche nel video tecnico sono emersi dei risultati eccezionali di efficacia pari al 95% e di sicurezza che dimostrano che non ci sono praticamente effetti collaterali gravi se non in casi estremamente estremamente rari. Ora, questi stessi dati sono stati resi pubblici e anche ad esempio il professor Cresanti che è sempre stato uno dei più attenti sul tema ha rilasciato proprio l'altro giorno un'intervista nella quale dice che questi dati sono finalmente consultabili e questi dati dimostrano una sicurezza elevatissima del vaccino. Quindi è vero che l'abbreviazione del percorso ha creato un prodotto pericoloso? No, l'abbreviazione del percorso che è per adesso un unicum nella storia della ricerca farmaceutica è invece un segno di collaborazione e di interesse di tutto il mondo per questo tipo di farmaco che doveva essere reso disponibile il prima possibile. Quindi possiamo vederla come una vittoria più come una cosa pericolosa. Cosa è rimasto fuori dagli studi fatti in così poco tempo? Chiaramente lo studio degli effetti a lungo termine che verranno affrontati durante la periodo di farmacovigilanza cioè durante la fase in cui il vaccino sta già venendo somministrato alla popolazione. È una cosa pericolosa? È molto, molto improbabile che vengano fuori dei meccanismi a lungo termine per questo vaccino e tra pochi minuti andremo proprio a vedere perché. Seconda domanda. Questo vaccino è stato testato su troppe poche persone e di fatto noi diventiamo cavie. È vero? Al contrario, questo vaccino è stato uno dei vaccini testati su più persone in assoluto nella storia. Normalmente la fase 3 è la più importante della sperimentazione, coinvolge tra i 300 e i 3.000 pazienti. Quindi solo nel caso del vaccino Pfizer, e la stessa cosa vale per quello Moderna, per quello AstraZeneca e così via, sono stati presi numeri di partecipanti elevatissimi. Per il Pfizer 43.000 partecipanti. Ora, questo numero è 10 volte più del normale. Vuol dire che rispetto al solito, rispetto agli studi degli altri vaccini, quello per l'epatite, quello per il morbillo, quello per il tetano, questo vaccino ha subito un studio 10 volte più ampio in termini numerici. Certo, è stato più veloce, ma gli studi a breve termine sono stati svolti su 10 volte più persone del normale. Tutti volontari, chiaramente. Terza domanda. È vero che il problema non è il vaccino, ma sono gli adjuvanti, cioè le altre sostanze presenti nell'iniezione? Anche in questo caso non è vero. Oltre all'RNA modificato per creare la proteina Spike, nel vaccino sono presenti solo sostanze che sono già parte del nostro corpo, lipidi, cioè grassi, zucchero da cucina, sali, e una sola sostanza estranea, cioè il polietilenglicole, che è un polimero, assolutamente innocuo di solito, che viene utilizzato per permettere la fusione della membrana lipidica con le cellule bersaglio. Questa sostanza in alcuni casi può dare delle leggere reazioni allergiche, forse in alcuni casi, come abbiamo visto, anche delle reazioni allergiche più estese, ma niente che sia generalizzato per l'intera popolazione, quindi riguarda solo casi estremamente specifici. Non ci sono metalli pesanti, non c'è il tiomersal, cioè il mercurio che molto spesso è stato attaccato come componente rischioso in un vaccino, che ormai non viene più usato da anni. Non ci sono altre sostanze se non quelle elencate, quindi sostanze di base totalmente biocompatibili e innocue. Quarta domanda. L'RNA usato può integrarsi nelle cellule umane, cioè può restare attivo, magari dopo mesi o anni? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare tre passaggi logici. Prima di tutto, quanto dura un RNA? Pochissimo. La vita media di un RNA è bassissima proprio a livello naturale. L'RNA è un acido nucleico fatto per portare un'informazione e immediatamente dopo venire distrutto. Potete immaginarvelo come uno di quei post che si autodistrugge, ad esempio su Snapchat. Fondamentalmente dura pochissimo tempo e poi, una volta portata l'informazione, viene degradato. Ora, moltissimi studi hanno misurato tempi di durata dell'RNA variabili da alcuni minuti al massimo a una decina di ore. Quindi il giorno dopo l'iniezione già l'RNA che vi è stato iniettato è stato completamente distrutto. Ora, poniamo che ci siano dei casi estremamente particolari. Che le modifiche fatte apposta dagli scienziati per aumentare la stabilità di questo RNA funzionino benissimo. E che un caso unico nella storia, voi, mantegnate questo RNA vivo dentro la vostra cellula, cosa può succedere? L'RNA è comunque un RNA. Una volta anche che fosse stabile nella cellula, e non venisse quindi distrutto, cosa potrebbe fare? Non potrebbe di base integrarsi e rimanere nel vostro genoma. Questo può succedere solo in presenza di un virus chiamato retrovirus, come ad esempio l'HIV, che utilizzi una particolare enzima per modificare l'RNA e convertirlo in DNA, e in seguito inserirlo dentro al vostro genoma. Questa cosa, per accadere, deve quindi prevedere la contemporanea infezione della stessa cellula muscolare in cui vi viene iniettato il vaccino, da parte di un retrovirus, quindi ad esempio il virus dell'HIV. Anche se fosse, è assolutamente improbabile che il virus dell'HIV vada a retroprascrivere proprio l'RNA per la proteina spike, che è presente per una decina di ore al massimo nella vostra cellula. Quindi i rischi, come dice uno studio scientifico, di questa integrazione rimangono estremamente improbabili per l'mRNA. Poniamo però anche che in casi estremamente particolari questo avvenga, cioè che l'RNA inserito nella vostra cellula si integri e resti stabilmente parte del vostro genoma. Anche se accadesse ed è estremamente improbabile, cosa potrebbe succedere? Assolutamente nulla. Anche se l'RNA si integrasse, questo RNA continuerebbe a produrre la proteina spike del coronavirus. Continuerebbe a produrre questa proteina e in pochissimo tempo i linfociti T si accorgerebbero che la cellula produce proteine virali e la ucciderebbero. E quindi anche se dovessimo trovarsi davanti a questo caso, non accadrebbe assolutamente niente. La cellula specifica, solo lei, verrebbe selettivamente distrutta dal nostro sistema immunitario. Quinta domanda. Le aziende farmaceutiche fanno business sul vaccino. Ci deve essere dietro qualcosa. Beh, le aziende farmaceutiche fanno business su tutto. Non solo sui vaccini, ma soprattutto sui farmaci, cosiddetti chimici normali. Ora, questo business del vaccino riguarda il 2-3% di tutto il prodotto farmaceutico del mondo. Quindi fondamentalmente, se si fanno a vedere i soldi effettivamente implicati in questo processo, non conviene molto alle aziende farmaceutiche puntare sul vaccino. Perché il vaccino gli dà una rendita estremamente bassa rispetto a quello che potrebbe dargli, ad esempio, lo sviluppo di farmaci anche proprio contro il coronavirus. Quindi, che ne so, sviluppare anticorpi monoclonali o farmaci chimici diretti contro il covid, piuttosto di vaccini che lo eliminano di fatto dal mondo. Quindi, per l'azienda farmaceutica, paradossalmente, conviene che resti una malattia, piuttosto che eliminare la malattia attraverso il vaccino. Chiaramente, il business a breve termine è molto elevato, ma a lungo termine a un'azienda farmaceutica conviene investire nella produzione di farmaci per altre malattie. Senza sottolineare, chiaramente, che più persone muoiono, meno l'azienda farmaceutica venderà i suoi farmaci. Quindi, chiaramente, dal punto di vista industriale, all'azienda farmaceutica conviene ridurre le morti di covid che stanno decimando la popolazione. Queste, chiaramente, sono le risposte a alcune delle domande, non a tutte. Quelle che ho potuto vedere. Ho volutamente deciso di escludere la risposta a domande quali il vaccino crea l'autismo, il vaccino determina che ci controlleranno e potranno modificare il nostro comportamento, e domande del genere, perché io ritengo importante informare le persone che si approcciano a questo tipo di problematiche con coscienza, interesse e una naturale preoccupazione. Io faccio sempre l'esempio di me stesso. Pur essendo uno scienziato e essendomi studiato moltissime cose, ho una paura folle di prendere l'aeroplano. Ogni volta che prendo l'aereo, penso che morirò, che l'aereo si schianterà e quello sarà il mio ultimo viaggio. Mi rendo conto che questa problematica che vivo io a livello psicologico non è razionale, per cui ogni volta salgo sull'aereo lo stesso, anche se magari passo il viaggio in ansia. E' quindi molto importante che non attacchiamo le persone che si approcciano a questo vaccino con dei dubbi o delle perplessità, o con un po' di ansia di ricevere un farmaco che effettivamente è nuovo a livello tecnologico. Ma la conoscenza e l'approfondimento ci aiutano ad affrontare i problemi e a capire che, magari anche di fronte alla nostra preoccupazione, quell'altra cosa, cioè la malattia e il covid, è molto più grave, e quindi farci scegliere con maggiore cognizione di causa. Grazie a tutti, spero che questo video sia stato utile. Vi auguro una buona giornata.